All'andata fu una delle migliori partite del Pescara, soprattutto nel primo tempo, squizzato contro il Perugia, adesso vietato fallire. Sì, arriviamo da un risultato negativo con la Juventus, quindi non possiamo sbagliare. Dobbiamo preparare la partita questa settimana nei migliori dei modi e vogliamo assolutamente far bene e riprendere il nostro cammino con una vittoria. La classifica dice che sono fondamentali i tre punti. Sì, siamo quinti, siamo lì vicini con il Perugia, quindi uno sconto diretto e daremo tutto per vincere e portare i tre punti a casa. Una partita tra due squadre che probabilmente centrano poco con la Serie C, si vedrà anche un bel calcio perché il Perugia è comunque una squadra che fa giocare. Sì, speriamo che venga fuori una partita come all'andata, cercando però questa volta di portare i tre punti a casa. All'andata è stata una bella partita, viso aperto, quindi cercheremo di replicarla, però cercando di vincerla. All'andata è proprio una tua pressione alta, è iniziato l'azione dell'avvantaggio, il tiro di Cuppone e poi la ribattuta di Salvatore Aloi. Che partita ti aspetti lunedì? Sì, la pressione alta è quella che ci chiede sempre il mister di andare a prendere sempre l'avversario alto e portare a sbagliare. Quindi cercheremo di fare la nostra partita facendo quello che ci chiede il mister in settimana e cercheremo di vincerla. L'ultima, a mente fredda, cosa non ha funzionato con la Juventus? Quattro gol subiti, zero punti portati a casa? Non ha funzionato, secondo me nel secondo tempo siamo andati un po' sotto ritmo, gli abbiamo fatti giocare troppo. Sapevamo che era una squadra forte tecnicamente e dovevamo continuare la pressione alta come eravamo partiti i primi 20 minuti e secondo me potevamo fare meglio. Cosa ti manca e chiudo per essere proprio il play perfetto per Zeeman al di là della continuità nell'arco dei 90 minuti? Sicuramente devo migliorare in fase difensiva, posso migliorare sotto anche il punto di vista del gioco, delle geometrie. In settimana siamo qui apposta per migliorarci e cercherò di farlo. Cal lupo Niccolò. Carepi, grazie.